La sogno ancora adesso la filanda. Testimonianza di Teresa Bertolino nata a Rocca De Baldi classe 1910 contadina e operaia. In campagna mancava la grana niente soldi almeno in casa mia avevamo una dozzina di giornate eravamo piccoli proprietari ma in casa il pane non mancava aveva un profumo quel pane vivevamo con le economie seguendo il proverbio di mio padre alla mattina la polenta al dopo pranzo condita alla sera la putia la poltiglia la putia era la paciarina farina di grano turco e acqua e sale e dentro un chilo di castagne la cena era tutta lì a volte per pranzo polenta e rape fritte nel lardo rape nere bruciacchiate ma come erano buone ecco un particolare che mi fa appena parlarne quando si è sposato il mio fratello come fare ad accompagnarlo sono andata da una vicina di casa a farmi imprestare un paio di scarpe avevamo le scarpe di tela bianca e con un po di farina e di acqua facevamo il bianchetto e le scarpe nere le pulivamo con il nero fumo del camino tenevamo i bigat le donne mettevano la semente dei bacchi in seno al caldo fino a quando non schiudevano mia madre la semente la teneva invece sotto il cuscino nella lana tra due mattoni sempre ben caldi mio padre portava il cristo in processione si vestiva con il camice bianco e portava la croce grossa ogni 25 aprile in processione portava anche la semente dei bacchi in una scatola quando i bacchi stavano per maturare quando venivano con il collo giallo allora per farli montare si metteva nella stanza un bracere con la camomilla così i bacchi montavano e facevano il bozzolo se andava bene il mazzo più bello dei bozzoli lo regalavamo al parroco c'era la gara a chi faceva il mazzolino del parroco più bello così il parroco che non lavorava guadagnava più di noi regalavamo anche il grano e la meliga al parroco passava lui a prendere la donazione ero bambina vedevo le donne che andavano a lavorare la filanda di crava e le invidiavo seognando che un giorno o l'altro la filanda mi assumesse avevo una gran volontà di lavorare nel 1921 a 11 anni finalmente sono diventata una filera a crava nella filanda lavoravano 250 persone prima ho fatto la sbatosa poi la grupposa e poi avanti ero felice di lavorare non c'era ancora la busta paga niente marchette 10 ore al giorno 24 lire alla quindicina occorreva molta agilità nelle dita e la vista buona l'occhio clinico mi piaceva da matti il lavoro della filanda la sogno ancora adesso la filanda tornerei domani a lavorare in filanda non ricordo più in quale anno forse era il 1921 le ore di lavoro sono diminuite sono diventate nove per merito dei socialisti e la festa delle filiere alla fine di maggio finiva la stagione della filanda allora fabbricavamo un fantoccio pieno di paglia con dentro due chili di sale si partiva dalla filanda cantando si andava tutte sulla piazza di crava a bruciare la vecchia cantavamo bruciate la vecchia picchiate la vecchia la vecchia è già scoppiata viva la libertà lì in piazza attorno alla vecchia che schioppettava c'era tutta la gente del paese e noi che cantavamo c'era anche il ballo pubblico era una bella festa poi la filanda di rocca dei baldi ha chiuso sono andata a lavorare alla filanda di monesiglio ma a monesiglio noi operaie forestiere eravamo in pensione dalle suori di san gaetano e non mi piaceva estate inverno la ritirata era alle 20 e 30 e poi se una era malata era assente doveva pagare lo stesso la pensa infine ho lavorato la filanda sant'anna di cuneo fino a quando ha chiuso ho fatto la filera fino ai 49 anni ho lavorato una vita nelle filande ho 26.000 lire di pensione io non sono di nessun partito ma perché la previdenza non alza le pensioni fa pena e chi ha 12.000 lire di pensione è tremendo alla filanda di cuneo nel 1943 c'è stato uno sciopero due giorni di sciopero il direttore era uno con il pizzetto severissimo non sopportava niente non avevamo scioperato per la paga ma per il trattamento che ci riservava il direttore due delle nostre compagne erano finite in prigione la racca e la maria vallati se andavamo d'accordo tra filere sì che andavamo d'accordo dicevamo sempre tra noi chi porta spia porta spione non vale un bottone a cuneo mangiavamo in filanda le pastasciute i minestroni di marietta ci portavamo da casa due mele due uova e qualche patata le uova e le patate le facevamo cuocere nelle bacinelle cuocevano assieme ai bozzoli nell'acqua sporca specialmente le patate odoravano di bigat ma come erano buone sento ancora la nostalgia della filanda lo giuro lavorando risparmiavo rimediavo qualche soldo mio padre tribolava impiegava due anni a pagare un aratro tante cose brutte vorrei dimenticarle ma non la filanda una volta ho deciso di comprarmi un vestito con i miei risparmi mio padre mi dice compralo il vestito ma non metterlo perché devo ancora pagare un debito lo metterai dopo e io non l'ho messo cose dell'altro mondo un vestito da due lire al metro un giorno avevo 32 lire di risparmi volevo comprarmi qualcosa mio padre mi dice io devo comprare una vacca e così gli ho consegnato i miei risparmi quando mio padre è stato sul letto di morte si è ancora ricordato di quelle 32 lire e ha pronunciato queste parole una vacca e poi di teresa che mi ha imprestato i soldi ma mio padre e mia madre a forza dei sacrifici hanno allevato una famiglia onesta ma poi è venuta la guerra un mio fratello è morto in russia un altro fratello è morto in grecia e un altro ancora nel periodo partigiano se nelle finande cantavamo lavorando cantavamo sempre dalla mattina a sera ma le ho dimenticate le canzoni di allora una delle canzoni diceva testa bassa vestita di nero meste dolente davanti a me passò cantavamo anche un'altra canzone così bella la pierina che raccontava la storia di un uomo tradito che ammazzava la sua amorosa la pierina poi le toglieva il cuore e lo portava all'oste perché lo cucinasse poi l'uomo tradito invitava al banchetto l'amante della pierina vieni con me ti porto con me all'osteria mangia mangia anima bella mangerai una vitella che stenterai a digerire e quest'altra canzone sia le belle sia le brutte san michele le pesa ossia le giudica tutte presto o tardi la morte viene beate quelle che fan del bene e quest'altra a mezzanotte in punto son partiti e verso al cimitero sono andati andavano pian piano e avviliti facevano pietà quei disgraziati oi che pena oi che dolor si vanno ad ammazzare causa dei genitori erano quasi tutte canzoni tragiche raccontavano cose che erano successe così dicevano i nostri vecchi ma ecco una canzone un po allegra se vedeste le filere quando vanno dal salsicciaio loro comprano la salsiccia poi la lasciano da pagare